Ciao a tutti, bentrovati nella nostra consueta rubrica di libri. Oggi vi parlo di un romanzo di Nicole Krauss, Essere un uomo. Questo romanzo è un vero e proprio compendio di che cosa significa essere una donna, perché in un certo senso per comprendere realmente che cosa significhi l'essere donna bisogna specchiarsi negli uomini. È quello che ci vuole dire la scrittrice, che attraverso un caleidoscopio di storie ci narra la donna sotto tutti i punti di vista, attraverso le varie fasi della sua vita, l'adolescenza, la giovinezza, attraverso i momenti importanti della vita, il lutto, la maternità, attraverso la memoria. Ecco che Nicole Krauss ritorna a parlare di sentimenti, ritorna a parlare di senso di appartenenza, attraverso tante storie diverse che restituiscono al lettore l'immagine totale di che cosa significhi essere una donna e di che cosa significhi fare i conti con i propri sentimenti.